Ieri sera a Modica la polizia tratta in arresto con l'accusa di evasione Samer Helel, tunisino di 36 anni, residente da tempi in città era già noto per i suoi numerosi precedenti per furto, resistenza pubblico ufficiale e appunto evasione. L'ex comunitario in regime di domiciliari è risultato infatti essere assenta ad un controllo notturno, successivamente è stato intercettato da una volante della polizia mentre stazionava in cento assieme ad altri connazionali. E' stato quindi subito identificato e tratti in arresto con l'accusa di evasione. Il tunisino, come detto, non è nuovo a questi episodi, lasciandoci alla propria abitazione e contravvenendo alla disposizione di legge. Intanto a Vittoria l'uomo arrestato per possesso di pistola con munizione in canna ha lasciato il carcere e adesso si trova in regime di domiciliari.